Segnare un ultimo gol qui con la maglia dell'Atalanta. Sicuramente stasera è stata una serata speciale e sicuramente questo è un'arrivederci. Lo so che tornerò. Ringrazio a Per Cassi, ai miei compagni, a tutti, a tutta la città di Bergamo, a questi tifosi splendidi che mi sono stati vicini durante tutti questi anni. Sinceramente sono grato, non mi intercherò mai, di questa città, di questo tifo, di questa maglia. L'avrò sempre indossata. Lo ringrazio a tutti, Per Cassi, famiglia Per Cassi, compagni, tutta la gente che lavora per l'Atalanta, che forse non si vede, fanno un lavoro straordinario.